la verniciatura liquida a dimersione e diffusione in ghisa e carpenteria metallica pesante la SVI sul mercato dal 1992 è leader nel settore della verniciatura liquida a dimersione e diffusione in ghisa e carpenteria metallica pesante l'azienda ha rafforzato la propria struttura sviluppando un moderno impianto di verniciatura polvere termoindurente oltre che di attività di lavorazione meccanica e granigliatura la SVI si trova a Cento in provincia di Ferrara in via Farini 3